Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Ora apriamo con il consueto bollettino. Oggi in Abruzzo sono 40 nuovi casi di cui 18 riscontrati però tra il 14 e il 22 di maggio. Due morti, 122 guariti. Continua a scendere il numero complessivo dei positivi in Abruzzo. Il servizio. Sono 40 nuovi casi di Covid registrati oggi in Abruzzo. Il più giovane tra i contagiati ha 3 anni, il più anziano ne ha 74. Di questi uno proviene da fuori regione, 8 sono residenti in provincia di Chieti, 5 in quella di Terramo e altrettanti nel Pescarese. Ben 25 invece sono residenti nell'Aquilano. Ancora una volta infatti l'ASL1 ha recuperato delle positività precedentemente perse per strada, tracciando 18 contagi avvenuti tra il 14 e il 22 di maggio, che non erano stati puntualmente registrati a causa di un disservizio informatico. 4095 i tamponi molecolari processati nelle ultime ore. Due morti, di cui un decesso avvenuto nei giorni scorsi. E con gli ultimi 122 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5824 i positivi accertati, 84 in meno rispetto a ieri. Di questi, 176 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 17 sono quelli in terapia intensiva, nessun ricovero e nessuna dimissione nelle rianimazioni Covid nelle ultime 24 ore. Gli altri 5.631 positivi, 77 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E i numeri da zona bianca dell'Abruzzo hanno indotto il presidente della regione a chiedere un anticipo del provvedimento del governo. Marsilio chiede di far scattare la zona bianca in Abruzzo, quantomeno nella sola provincia di Pescara, dal 7 da lunedì prossimo, piuttosto che dal 7 di giugno. Intanto l'occupazione delle terapie intensive nella nostra regione è sceso al 9% di occupazione. Paolo Renzetti. Assessore, numeri da zona bianca in Abruzzo anche per questi ultimi giorni. Ieri il presidente della regione Marco Marsilio ha scritto una lettera al ministro della Salute Speranza per chiedere di anticipare questa zona bianca, ma al di là di questo, insomma, il dato confortante è che continuano a calare i ricoveri, continuano a scendere i positivi nella nostra regione. Sì, è vero, è una richiesta che il presidente Marsilio ha inoltrato al ministro Speranza in base ai numeri che noi abbiamo in atto da diversi giorni, da diverse settimane. Abbiamo una diminuzione dei contagi nella nostra regione e quindi un trend in continua discesa che oltretutto si accompagna a una drastica riduzione proprio nell'occupazione dei posti letto ospedalieri. Oggi abbiamo occupato il 9% dei posti di terapia intensiva e il 13% di quelli in area medica, quindi siamo molto lontani da quelle che sono le soglie critiche e al di sotto della media nazionale. Basti pensare che appena un mese fa i posti letto occupati erano proprio il triplo di questi attuali. La nostra è una regione che si basa sul turismo per cui stiamo lavorando per poter portare avanti la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Proprio ieri abbiamo tenuto un incontro con tutte le categorie proprio per mettere in sicurezza sia i nostri corregionali ma anche coloro che vengono da fuori regione. Vaccineremo il più possibile, stiamo seguendo la media nazionale e siamo anche attenti a quelle situazioni del qui ed ora, tipo la volontà di poter vaccinare anche i maturandi in modo da poter mettere in sicurezza la possibilità di sostenere gli esami, quindi vaccinando nei tempi e nei modi previsti. I primi di settembre si arriverà ad una vaccinazione quasi totale della popolazione abruzzese, Assessore? Sì, era il termine che noi avevamo già previsto nella delibera, quindi stiamo seguendo quello che è stato il programma sia regionale e quello che ci viene dato dal Ministero, dalla struttura commissariale. Continuiamo una campagna di vaccinazione sia riguardo al target ma soprattutto con le dosi che speriamo di ricevere nel mese di giugno, di poter aprire a tutta la popolazione. Parliamo di scuola perché c'è l'ipotesi di vaccinare circa 11 mila maturandi che si apprestano ad affrontare l'esame di Stato, Regione, Ufficio Scolastico Regionale. I sindacati stanno lavorando a un protocollo condiviso, il tempo però è poco. Al Chetalase. Ci sono poco più di due settimane di tempo per vaccinare i circa 11 mila studenti che a metà giugno dovranno affrontare l'esame di Stato. Bisogna fare in fretta e per questo ieri c'è stato un incontro tra l'Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Veri, quello all'istruzione Pietro Queresimale, il riferente regionale per la vaccinazione Maurizio Brucchi e il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonella Tozza. C'è la volontà di attuare questo progetto sia da parte del mondo della scuola che dalla regione ma bisogna risolvere alcune problematiche legate all'approvvigionamento delle dosi e alla tipologia di vaccini da utilizzare. Ma la tempistica risicata potrebbe non essere sufficiente a completare il percorso prima dell'inizio degli esami senza arrecare problemi ai maturanti. In ogni caso, qualora si dovesse procedere, la vaccinazione sarà effettuata su base volontaria. Ma bisogna anche considerare i tempi per rendere efficace il siero contro il virus perché una somministrazione troppo ravvicinata renderebbe vana la campagna. E intanto è stato approvato il protocollo Covid per la gestione dell'emergenza sanitaria nel corso degli esami scolastici. La CGL fa chiarezza anche sulla vaccinazione degli studenti. È stato sottoscritto in data 21 maggio ultimo scorso il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali. È stato riproposto chiaramente quello dello scorso anno con in più in previsione un decreto di stanziamento di 30 milioni di euro a supporto degli esami e praticamente ribadendo le stesse cose che si erano dette l'anno scorso. Quindi utilizzo di mascherine chirurgiche non vietate le mascherine di comunità ovviamente e sconsigliate le FFP2 per il tempo di esposizione all'esame di Stato. Gli esami saranno in presenza sia alle scuole medie che alle scuole superiori e solo in casi particolari di contagi sarà possibile la videoconferenza. I tavoli permanenti sono rimasti gli stessi a livello nazionale e a livello regionale quindi praticamente sono le stesse cose dell'anno scorso. Quanto riguarda i vaccini invece? Ora siamo a fine maggio. Gli esami della terza media inizieranno a brevissimo. Per le superiori gli esami di maturità inizieranno il 16 giugno e di conseguenza i tempi sono molto stretti. Io starei attento a effettuare vaccini ai ragazzi in questo periodo perché chiaramente capiamo che se ci sono degli effetti collaterali poveretti non avranno neanche il tempo di studiare. Poi la protezione dopo la prima dose non è che sia... ci vuole del tempo. Si chiude questo anno scolastico ma voi siete già al lavoro per il prossimo anno scolastico. O si spera che il prossimo sia un anno scolastico normale? Noi ce l'auguriamo. Il problema è che non si parla della riapertura delle scuole. Il problema è serio. Perché come è successo lo scorso anno abbiamo iniziato a settembre in tranquillità dopodiché a novembre-dicembre è successo quello che è successo. Quest'altro anno speriamo che i vaccini abbiano fatto il loro corso e quindi ci auguriamo un anno più tranquillo. Però io inizierei a pensare già da ora al primo settembre. perché altrimenti non se ne esce. Cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Silvi ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e per l'imminente stagione estiva. L'obiettivo è quello del rilancio del turismo in città. Stefano Recanati. A seguito di un lunghissimo dibattito e con 11 voti favorevoli e 5 contrari il Comune di Silvi ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Un bilancio fortemente condizionato da due fattori. Il primo determinato dalla precaria situazione sanitaria e dalla conseguente crisi economica che ha richiesto risorse più consistenti. Il secondo invece è dettato dalla scelta di questa amministrazione guidata dal sindaco Andrea Scordella di non gravare sulle tasche dei cittadini. L'amministrazione comunale che si appresta ad iniziare il suo quarto anno di attività amministrativa punta, per bocca dello stesso primo cittadino, a dare un nuovo slancio alla città con un'immagine di una città balneare moderna, attiva, accogliente, vivibile e proiettata decisamente verso un futuro migliore. La scelta di questa amministrazione è stata quella di non aumentare le tasse. Ovviamente un bilancio lacrime e sangue per la condizione economica di partenza che ho ereditato da quest'ente, però voglio dire che stiamo cercando comunque di dimezzare il disavanzo dell'amministrazione di Silvi, ma soprattutto di puntare su tre aspetti fondamentali che sono l'aspetto sociale a seguito di questa pandemia, la manutenzione, perché Silvi ha bisogno di essere riqualificata e soprattutto i lavori pubblici guardando a un futuro migliore. Quando la crisi del turismo ha inficiato poi su questo bilancio di previsione? Ma indubbiamente abbiamo delle poche certezze, chiamiamola così, come tutti i comuni della costa, ovviamente noi siamo fiduciosi per un'estate migliore, l'anno scorso eravamo molto titubanti e poi alla fine abbiamo avuto un agosto super. Diciamo che siamo ottimisti anche se sappiamo che navighiamo a vista per le incertezze economiche e giustamente sanitarie e dunque ci stiamo preparando per un'estate sicuramente in massima sicurezza accogliendo tutti quelli che sceglieranno il nostro territorio. Andiamo a Terramo dove si torna a vivere anche di cultura grazie alla riapertura di teatri e musei. Quest'estate inoltre la musica farà la parte da Leone, la Primo Riccitelli ha presentato la stagione concertistica e sono in arrivo artisti come Cammariere, Simona Molinari e Mogol. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Riparte alla grande la cultura a Terramo, finalmente musei, teatri e cinema aperti e tanta musica dal vivo. Una rinascita che passa attraverso l'arte, i nuovi film, i concerti e la presenza di artisti famosi che animeranno le serate estive sul territorio provinciale. Dopo una pausa forzata e mal digerita, mal compresa probabilmente dal mondo della cultura, torniamo finalmente a poter visitare determinati luoghi, a poterli vivere nella quotidianità. Come dicevi bene, i teatri, i cinema sono tornati ad accogliere il pubblico. Stiamo riprogrammando e sicuramente avranno luogo nei prossimi mesi estivi delle mostre all'interno degli spazi espositivi del comune di Terramo, così come le stagioni concertistiche verranno organizzate. È un bel segnale, è un segnale di speranza, di ripartenza. In questa ripartenza culturale si colloca un cartellone concertistico di ottimo livello curato dalla Primo Riccitelli di Terramo che include una serie di eventi musicali notevoli che avranno cornici diverse grazie alla collaborazione dei sindaci e dei comuni terramani. L'idea di poter fare eventi con la partecipazione del pubblico sinceramente ci fa piacere. Spero che sia la ripartenza definitiva per noi come per tutte le associazioni culturali che organizzano eventi e che la stagione concertistica ovviamente abbiamo cercato di differenziare il repertorio includendo la musica classica, la musica jazz qualcosa anche di pop accontenti e soddisfi gusti di tutti gli spettatori che speriamo siano numerosi. Sergio Cammariere, Simone Molinari, Mogol sono solo alcuni dei nomi degli artisti che quest'estate potremmo ascoltare e che imprimono al programma della Riccitelli un marchio di qualità. Quali sono gli appuntamenti più interessanti? Ovviamente sono tutti interessanti e sono tutti con grandi nomi. Ne cito tre, facciamo così perché di tre generi diversi il primo concerto Davide Cabassi uno dei più grandi pianisti italiani in mezzo durante l'estate ci saranno i gezzisti Paolo Fresu, Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e poi la rassegna curata dal Teramano la gloria della città Paolo di Sabatino e alla fine di agosto, il 23 di agosto verrà Mogol che racconterà Lucio Battisti insieme ad Angelo Valori che è pescarese, altra gloria della nostra terra e il suo meditanzale. Si chiama Golena Life il progetto presentato oggi dal Comune di Pescara per la valorizzazione delle aree golenali vediamo di cosa si tratta. Si chiama Golena Life l'attività voluta dall'amministrazione comunale è prevista nel contesto specifico dell'area fluviale e in particolare della Golena da cui il nome del progetto del fiume Pescara e del percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare con il progetto si intende valorizzare il rapporto simbolico identitario che lega il fiume Pescara alla città e ai cittadini sul quale appare fondamentale puntare per lo sviluppo territoriale sarà selezionato un gruppo di 20 giovani pescaresi fra i 18 e i 35 anni da coinvolgere attraverso l'attivazione di borse lavoro formazione nello sviluppo di un piano di riqualificazione dell'area che prevede tra gli altri anche la creazione di un ecomuseo fluviale con percorsi di rigenerazione urbana ambientale e culturale Golena è un progetto voluto fortemente dalle politiche giovanili la realizzazione di un museo ecofugliale dove naturalmente si andrà a valorizzare il fiume oggi il fiume non deve essere più un oggetto simbolico ma concreto noi daremo la possibilità a un gruppo di 20 ragazzi che parteciperanno e verranno selezionati appositamente tramite bando per copartecipare a questo progetto dove loro saranno attori protagonisti dove saranno il cuore dell'iniziativa dove creeranno dei gruppi delle situazioni dei percorsi di rigenerazione urbana ambientale e culturale l'età dei ragazzi va dai 18 anni e 35 anni il bando entro un mese ci sarà naturalmente sarà nostra premura informare tutti i ragazzi di Pescara perché potranno partecipare i residenti avremo una grande motivazione per questi ragazzi a fine progetto parliamo di un percorso di borsa lavoro studio e formazione riceveranno 3000 euro il progetto durerà un anno quindi daremo veramente una grande possibilità ai ragazzi di Pescara di valorizzare il fiume ma nonostante ma di attivarsi anche come autoimprenditorialità in un percorso così importante e ora la pagina sportiva partiamo dal calcio per il ruolo di direttore sportivo della Pescara resta tra le altre la candidatura di Sandro Federico in uscita dal Teramo nelle ultime ore è in ascesa anche il nome del Giuliese Beppe Manari che sta per chiudere la sua esperienza da direttore tecnico della Novara facciamo il punto con Andrea Costantini direttore sportivo e allenatore in casa Pescara sono questi i primi tasselli per ricostruire una squadra in grado di lottare per un pronto ritorno in Serie B un nome in ascesa nelle ultime ore sembra quello di Giuseppe Manari che quando giocava e faceva sognare i tifosi di Giulianova e San Benedettese era l'uomo che accarezza la biglia per le sue grandi qualità tecniche Manari è stato già al Pescara fu il vice di Franco Lerda nella stagione 2007-2008 anche allora post retrocessione in Serie C una carriera da allenatore trascorsa poi tra Pro Patria Como e Prosesto giovanili della Reggiana prima di intraprendere nel 2016 una carriera dirigenziale nel Lugano del patron Angelo Renzetti come responsabile dello scouting quindi il passaggio al Novara come direttore tecnico un incarico in via di conclusione dopo il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote a Leonardo Pavanati a sua volta noto a Pescara per essersi interessato al club biancazzurro a novembre con l'avvento di Pavanati a Novara Manari lascerà la società piemontese e potrebbe rientrare nei piani del Pescara novità potrebbero esserci entro questa settimana resta tuttavia anche la candidatura di Sandro Federico direttore sportivo in scadenza al Teramo dal presidente biancorosso Iachini ancora nessun segnale circa un prolungamento Federico in questi anni ha maturato una discreta esperienza nella categoria prima di Teramo era stato alla San Benedettese ed il suo lavoro è stato sempre apprezzato dal presidente Daniele Sebastiani la sua candidatura resta sul tavolo perdono decisamente quota le ipotesi Matteassi e Fracchiolla mentre Trinchera è chiusa con la Cremonese l'orientamento è comunque quello di avvicendare la direzione sportiva resta da vedere se almeno uno tra Antonio Bocchetti e Giorgio Repetto possa rimanere nei quadri dirigenziali ma con indirizzo verso scouting o settore giovanile dalla scelta del direttore sportivo potrebbe dipendere anche quella dell'allenatore allo stato attuale però non si possono escludere le soluzioni interne Gianluca Grassadogna e Pierluigi Iervese il primo allenatore ancora in carica si era sempre reso disponibile anche per la prossima stagione a patto di un repulistico in cui azzerare l'attuale organico Iervese è fresco di trionfo con la primavera e in diverse circostanze ha fatto intendere che se il presidente lo promuovesse in prima squadra sarebbe la realizzazione di un sogno e accetterebbe con entusiasmo ma probabilmente ancora presto Pescara è una piazza appetita da tanti allenatori e per sciogliere questi nodi il presidente Sebastiani prenderà ancora diversi giorni prima delle soluzioni definitive giornate di incontri anche per il presidente del Teramo Iachini che sta vagliando la possibilità di ingressi in società per continuare il progetto sportivo questo rende ancora la situazione legata a DS mister e giocatori in stand by il servizio di Jacopo Forcella tutto fermo in casa Teramo in attesa di novità che arrivino soprattutto dal fronte societario lo stallo che c'è riguarda eventuali trattative che nelle intenzioni di Iachini dovrebbero sostenere economicamente il progetto bianco-rosso partito nella stagione 2019-2020 ma rivisitato e corretto rispetto alla prima annata con un abbassamento dei costi già attuato in questa stagione e che a meno di ingressi di altri soci potrebbe essere fatto di ulteriori sforbiciate lo stand by tuttavia incide anche sulle conferme a partire da quelle di direttore sportivo e tecnico con Sandro Federico e Massimo Paci che aspettano buone nuove per capire se potranno continuare nel percorso iniziato col Teramo e costruire l'organico per la prossima stagione ed evidentemente poi è accascata le situazioni che riguardano anche alcuni elementi di questa stagione a partire da Bombaggi Lewandowski Costa Ferreira Ilari tutti in scadenza di contratto i discorsi in questo caso sono molto differenti tra loro va valutato l'impatto tecnico di questi giocatori e d'altro canto anche la possibilità che potrebbero partire per abbassare il monte ingaggi complessivo Paci attende una chiamata perché in primis vorrebbe proseguire il lavoro fatto in questa travagliata stagione condizionata da Covid e porte chiuse ma sa anche che quanto fatto a Teramo spinge alcune società a chiedere informazioni sul suo conto e questo mal si concilia con le riflessioni di Iachini e gli incontri che sta avendo per capire se c'è la possibilità di passare la mano in tutto o in parte con la Rosa in vacanza prima vanno sistemati i testelli societari farlo in tempi brevi però è la sfida più complessa considerando che in ogni caso il Teramo ha già un'ossatura composta da Santoro che comunque è e rimane l'uomo mercato per eccellenza Mungo che è un altro anno di contratto così come Viero e Arrigoni ed ha una difesa che potrà contare su quasi tutti gli interpreti di questa stagione un altro anno di contratto per Soprano altri due per Trasciani Piacentini e Diachite con quest'ultimo anche lui al centro di tante voci che lo vorrebbero presto andare verso altri lidi ma senza la certezza di quale progetto ed alla portata dello stesso è ancora impossibile pensare di fare valutazioni su come andare a puntellare questo organico e a chi farlo guidare ecco perché questi sono giorni di incontri frenetici per Iachini che poi dovrà esporre ai suoi le linee guida e iniziare a pianificare un'annata complicata dal punto di vista della concorrenza almeno quanto quella che il diavolo si è appena lasciato alle spalle in serie D uno dei protagonisti di domenica Pineto è stato il portiere biancazzurro Simone Mercorelli che dopo il vantaggio di Romano ha blindato il successo della squadra di Pomante con un rigore parato e con un'esultanza particolare ascoltiamolo è stata una bella un'emozione abbastanza forte soprattutto perché ho parato il rigore contro la mia ex squadra però diciamo è stato un susseguirsi di emozioni forti dal gol che è avvenuto prima poi abbiamo ho parato il rigore e poi dopo abbiamo gioito tutti insieme ecco diciamo nella vita di un portiere ci sono momenti di alti e di bassi come nella vita di tutti i giocatori solo che nel portiere si vedono maggiormente quando magari fa un errore o quando fa una bella parata noi abbiamo una squadra comunque che merita questa posizione in classifica lo diciamo lo stiamo dicendo diciamo dall'inizio dell'anno poi alcune cose sono andate male mettici pure un po' di sfortuna e quindi adesso però ci ritroviamo qui in questo punto del campionato in quella classifica e dobbiamo fare del nostro meglio per salire ancora di più perché noi non ci accontentiamo mai beh sì come tutte le partite da adesso fino alla fine secondo me sarà una bella partita una partita sudata anche perché comunque le temperature iniziano a farsi sempre più elevate quindi diciamo ci sono molti fattori che possono andare a discapito sia nostro che della squadra avversaria però penso che ci faremo trovare pronti per questa sfida però niente in poche parole questo è il cappello del mister per Michele Radunanza e ogni volta glielo chiedo e lui me lo dà sempre quindi diciamo che è diventato sì il mio portafortuna ma in generale io lo indosso perché magari quando c'è il sole preferisco vedere bene la palla e non essere oscurato diciamo dal sole piuttosto che appunto non fare un'uscita a vuoto perché il sole mi ha ciecato ecco quindi principalmente è per quello poi ieri ho avuto questo gesto liberatorio che io rivedendolo fa anche un po' ridere diciamo solo che non sapevo bene una serie di emozioni la prima cosa che ho pensato di fare è levarmi il cappello e tirarlo diciamo in aria e ora i playoff del volley senza storie il doppio confronto tra l'altino volley e lo Iesi il sestetto abruzzese si aggiudica il turno vincendo nettamente due partite e ora se la vedrà con l'imola Sergio Zappalorto l'altino vince 3 a 0 come all'andata contro lo Iesi e supera senza affanni il primo turno dei playoff al termine di una gara senza storia fatta eccezione per qualche scorcio della prima frazione i parziali a 20, 19, 23 non dicono la verità di una partita dominata dalle rosso-blu che confermano la loro forza e la felicità del presidente Papa sono state brave e temeramo questa partita perché dopo il risultato dell'andata ogni partita è sempre storia a sé quindi siamo stati bravi a mantenere i ritmi e a chiuderla subito 3 a 0 il duo Lestini-Zingoni si impone nel set numero 1 poi in cattedra sale la Mastrilli ma ancor più trascinatrice diventa Marica Longobardi che a fine gara totalizzerà 20 punti e percentuali di rilievo in coda mister D'Amico si concede giustamente l'opportunità di impiegare alcune seconde linee come Olleia Papa e Graziani e a tempo pieno Costantini un lusso e ora via al secondo turno playoff terza fase l'altino Tenaglia se la vedrà con Limola domenica 30 alle 17.30 per gara 1 in trasferta ritorno a Francavilla o sabato 5 o domenica 6 giugno calcio a 5 dopo lo sfortunato 0 a 0 in gara 1 al Palarigopiano domani il Montesilvano si gioca in gara 2 a Milano contro il kickoff l'accesso alla finale scudetto in caso di pareggio si andrà a gara 3 vediamo risultato raro nel calcio a 5 ma finisce proprio 0 a 0 gara 1 della semifinale scudetto tra Montesilvano unica sopravvissuta delle tante abruzzesi e kickoff nel ricordo di Berardinucci storico tifoso si apre un match di grandi equilibri a tratti ma anche senza fortuna per le nostre se solo si considerano il legno clamoroso dell'amparo il blitz sulla linea della Bertè dai trascorsi abruzzesi e più di un intervento miracoloso di René Franco tra i pali ospiti in più Outla Manieri il che non è poco in un contesto che tirate le somme non c'entra niente con il risultato in bianco meriti anche per le lombarde che hanno impegnato all'occorrenza la solita bravissima Carolina Sestari e ora c'è gara 2 domani alle 20 in terra milanese chi vince va in finale erudendo la bella che ci sarebbe solo in caso di ulteriore pareggio non sarà facile per le gonzaliane ma nemmeno imprese impossibile per raggiungere un traguardo dove ha messo un piede il rullo falconarado questo è uno sullo stat vedremo questa era la nostra ultima notizia tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale youtube e sul sito www.tv6.it grazie per averci seguito buon proseguimento di serata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito